Siamo con Massimo Ghirotto, Bra ovviamente per lei evoca ricordi straordinari, 1994 la lavagna Bra, quella sua vittoria in Viale Madonna dei Fiori, ricordi belli? Ricordi belli e anche li sto rivivendo adesso perché quando si parla di ricordi comunque è quello che fa parte della tua vita, del tuo trascorso, di quello che è stata la tua carriera, tra l'altro per me il Piemonte è anche una regione che mi ricorda molto perché ho vinto anche per esempio sul Santuario d'Europa, quindi Piemonte per me è qualcosa di importante, Bra in modo particolare perché più volte sono venuto qua ospite e più volte sono stato ricordato per questa vittoria che insomma porto sempre veramente nel cuore. E quella fa veramente una gran bella tappa anche dal punto di vista tecnico. Sì, una tappa non proprio facile, diciamo un po' ondulata, ma la caratteristica e la curiosità è che all'inizio della fuga c'era anche la maglia rosa, a un certo momento mi giro, vedo indietro e nella fuga c'era Berzi, il che gli ho detto senti Berzi, inutile se stai qua la fuga non va. Lui capì, si staccò e la fuga arrivò e mi consentì di portare a casa la vittoria. La tattica giusta. Senta, dal 94 dobbiamo fare un salto al 2023, questa Barrivoli si presenta, insomma, come si presenta questa tappa? Beh, potrebbe essere una tappa interlocutoria, voglio dire dove si potrà vedere magari anche una fuga che parte dall'inizio. Poi il Giro d'Italia è sempre qualcosa di imprevisto, delle volte vediamo tappe che non si aspetta poco, come quella di Torino l'anno scorso per esempio, dove c'è stata una selezione veramente importante. Quindi il Giro d'Italia è sempre qualcosa di importante, vincere una tappa adesso ancora di più di rispetto a qualche anno fa o tanti anni fa, vale molto. E poi chiudiamo, da Exig Cristo, da grande esperto, al di là di quella che è la singola tappa a Barrivoli, invece come Giro, come Corsa, che manifestazioni ci dobbiamo aspettare? Beh, è un Giro esigente anche perché sono state ripristinate delle cronometro, cosa che l'anno scorso non c'era. I partenti sono veramente di spessore, direi che Venepul e Roglic secondo me sono i favoriti, ci aspettiamo qualche italiano, speriamo che ci sia una novità e che ci possa consentire di far parlare anche di Italia. Il nostro Damiano Caruso è ancora un atleta che ci può dare soddisfazione, ma mi verrebbe in mente per esempio Tiberi che è un emergente e che ha sicuramente del talento e delle qualità.